Tuoborg ci ha mandato una diffida perché si chiamava Tubo e noi abbiamo pagato degli avvocati di diritto, di copyright e ci ha detto no no tutto ok, sai che li paghi un botto di rischio? Tutto ok, tutto ok, ma andiamo in stampa tutto, in produzione lattine e ci arriva la lettera di Tuoborg. Ultimamente è anche molto interessante, ho visto che hai aperto tramite la Tubo SRL, correggimi perché non vorrei dire... Sì, ma io guardo tutte le compagini societarie e non lo so, ti posso dire cosa facciamo. Comunque sei entrato un po' in quello che è il business delle Energy Team Inc, delle bevande, insomma con voi. No, è un'altra roba. Non è Energy Drink, insomma. Due settori completamente diversi perché l'Energy Drink ha un moltiplicatore, le bevande alcoliche hanno un altro moltiplicatore. Spoiler, quelle alcoliche hanno un moltiplicatore. Hai seguito un po' il filone di Logan Paul? Copiato totalmente, copiato totalmente con la differenza che noi facciamo una bevanda alcolica, che quindi porta con sé tutto un altro settore. Completamente diverso. Sì, io ho dovuto imparare a conoscerlo perché non lo conoscevo, il mercato degli Energy Drink è prevalentemente GDO. Cioè, grande distribuzione e palestre, non so. Invece gli alcolici c'è il mondo dell'oreca, che quindi è tutto il mondo dei locali, più il mondo della grande distribuzione. Quindi è proprio un lavoro completamente diverso, differenti competitor. Red Bull non è un nostro competitor, non sarà nemmeno l'azienda che ci comprerà perché Red Bull per policy non investe sull'alcol. Quindi tra Red Bull e Campari c'è una differenza infinita, nonostante facciano cose da bere, non so come dire. Quindi non è Energy Drink. L'unica cosa che cambia rispetto all'Energy Drink di Logan Paul è che il nostro non è un Energy Drink. E abbiamo approcciato, è un progetto su cui ho lavorato io personalmente insieme a Camillo Bernabè per un anno e mezzo. Cioè, significa che tu per un anno e mezzo investi il tuo tempo in una cosa che non sai se mai prenderà vita, no? Perché poi... Comunque state spingendo tantissimo sulla parte marketing e è quello che a me affascina sempre. Sì, perché nonostante noi abbiamo copiato Logan Paul, stiamo facendo una cosa rivoluzionaria nel nostro paese, perché le cose rivoluzionali in questo paese basta che fai una cosa che si sposta una virgola rispetto a quello che succede, quindi stai facendo... Perché dico rivoluzionare in senso, non in senso mitomane, ma in senso che è una cosa nuova. E' la prima... Se tu pensi in Italia oggi, dimmi un talent, una celebrity company, che cosa fa? Cosa fanno le celebrity company in Italia? Sono solo due, prevalentemente due settori. Beauty e vestiti. E vestiti. Questa è la prima celebrity company nel mondo del beverage. Quando noi l'abbiamo fondata, tutti, tutti i più grossi interlocutori, aziende, anche quelle che non fanno alcol, tutti hanno aderizzato le antenne. Perché la forza della celebrity company è che tu risparmi in marketing tantissimo. Cioè io riesco a fare, avere una forza che un'azienda normale in Italia deve spendere milioni di euro. Organicamente. Quindi noi abbiamo investito milioni di euro nel marketing, avendo anche la forza mia, di Lazza, di spingere il prodotto oltre ad avere... Si va a sommare il tutto e esplore. E sta andando molto molto bene, nel senso che, a parte che ad oggi abbiamo fatto anche un grosso aumento di capitale, perché abbiamo veramente... Tu calcola che da giugno a settembre noi abbiamo lavorato in divenire, nel senso che ognuno dei soci prestava... Non avevamo un team. Cioè abbiamo iniziato a lavorare senza avere un team. Ognuno prestava le sue competenze. Però ovviamente io non riesco a dedicarmi a H24. Leonardo non riesce a farlo. Cioè quindi... E trovare un cazzo di CEO e un direttore marketing forti, veramente forti, è difficilissimo. Hai nominato Leonardo. Com'è lavorare con Leonardo del Vecchio? Poi magari tante persone non lo sanno, ma all'interno di Boehm fa parte anche... Cioè anche Leonardo del Vecchio, insomma... Quindi secondo me non tutti sanno nemmeno chi è. Stiamo parlando della famiglia del Vecchio affondato... Adesso non credo si chiami più Luxottico. Exor. Exbo. Eh? Exori. Beh, stiamo parlando di una delle aziende più belle e una delle storie anche più belle, perché del Vecchio Senior non nasce ricco. Del Vecchio Senior, dalla storia che so io, cresce in un arfanotrofio. Quindi è una storia pazzesca, veramente da studiare. L'Italian Dream. Ma oltre all'Italian Dream parliamo, il CEO secondo me più bravo che abbiamo in Italia è Milleri. Cioè Milleri è di una potenza che voi non... Cioè io ho avuto l'onore di conoscerlo, di parlarci e diventarci anche, diciamo, amico. E veramente tu parli di una persona che conosce capillarmente tutto della sua azienda. E non stiamo parlando di un'azienda, stiamo parlando di una cosa gigante. E quindi sicuramente è una figata perché Leonardo sa fare business molto bene. È una persona che ha fiuto. E tu guarda, io sono andato da Leo senza avere il nome della Bibita, che anche quello fa ridere perché in realtà la Bibita aveva un altro nome. in realtà Tuborg ci ha mandato una diffida perché si chiamava Tuborg. E noi abbiamo pagato degli avvocati di diritto, di copyright. Ci ha detto no, no, tutto ok. Sai che li paghi un botto di... Sì, chiaro. Tutto ok, tutto ok, ma andiamo in stampa, tutti, in produzione lattine. Ci arriva la lettera di Tuborg. Non sa se è successo lo stesso con Guru Landia? Guru? Ti ricordi la maglietta Guru? Certo. Ti ho mandato la diffida. Comunque vabbè. Però Guru è un po' meno forte di Tuborg. Eh, fai. Quindi ti arriva la lettera di Guru oggi. Tuborg invece. Se fai soprattutto la roba di beverage, meglio non averli.